presente nel salotto pomeridiano di pomeriggio 5 di oggi 19 febbraio 2019 è stata la bella brava e simpatica giorgia mironi leader di fratelli d'italia si è aperta a 360 gradi parlando per lo più di politica del caso diciotto e dell'immunità a matteo salvini a proposito dell'immigrazione la bella giorgia avrebbe detto con la politica dei porti chiusi non si risolve il problema l'unico modo a impedire a quelle persone di partire con un blocco navale a largo della libia con i rimpatri e con centri sorvegliati la gente gli immigrati grandessini ce li ha sotto e poi fabio faccio che guadagna milioni ci fa lezione o roberto saviano dal suo ottico a milano a manatta e poi avrebbe detto anche a proposito di saviano saviano giornalista antimafia non ha mai detto una parola sulla mafia nigeriana e sul fatto che la giunta avrebbe respinto l'autorizzazione a procedere nei confronti di matteo salvini sul caso diciotto giorgia avrebbe detto se i 5 stelle lo avessero fatto senza le manfrine delle ultime settimane avrebbero fatto più bella figura matteo dovrebbe riflettere se stare al governo con certi personaggi bene vi ringrazio per l'ascolto il video termina qua iscrivetevi se vi va commentate datemi la vostra opinione un cordialissimo salutone a voi da un narratore italiano